Ciao, sono Paola, sono la direttrice di strategia di connexiones creativas, un'organizzazione che lavora da più di dieci anni per supportare l'ecosistema creativo e culturale dell'America. Stiamo lavorando con grande enfasi in Colombia, Brasile e Cile e abbiamo un fido processo di allianze in Europa. Guidiamo l'unica piattaforma di distretti e territori culturali e creativi del continente con più di 40 processi collegati. Siamo lieti da rappresentare l'America Latina nel Creativity Meets Cluster che si svolgeranno il 28 e 29 novembre a Vari in Italia sotto la guida di Puglia Creativa. Grazie e a dopo.